Buonasera, buonasera a tutti, come al solito vi do il consenso benvenuto prima della serata e vi spiego un attimino come funziona il gioco di questa sera. Intanto facciamo due parole così in confidenza per scaldare un po' la serata. Allora abbiamo un nuovo presidente degli Stati Uniti, se non l'avete visto, un nuovo presidente nero, finalmente abbiamo un presidente arancione e quindi direi che ne abbiamo visti ormai di tutti quanti colori, però abbiamo finalmente fatto fuori la dinastia di Clinton. Dopo il vecchio Bill che è stato risucchiato in un vortice di polemiche e non ha capito risucchiato, la moglie Hillary Clinton ha preso una trombata, non si può dire, quindi corruta e laziata in tutti i sensi questa volta. Va bene, dopo queste sciocchezze vi spiego allora come funziona la serata di questa sera. I più di voi ormai lo sanno perché siamo ormai al quarto appuntamento, vedo un po' di gente che solitamente ci segue nelle serate. Avremo nella prima parte la rappresentazione, metteremo in scena un delitto, voi sarete come al solito i protagonisti in questa prima fase perché sceglieremo questa sera otto persone tra di voi che verranno qui sul palco con me per mettere in scena appunto il delitto. Chi è ai tavoli prenderà appunti perché poi nella seconda parte della serata faremo 25 domande sullo spettacolo che avete visto. Dovrete quindi individuare tutti i vari indizi, rispondere correttamente alle varie domande e vi ricordo che dovete essere anche veloci perché chi risponde in maniera più veloce guadagna più punti e salirà in classifica. Quella classifica che poi vi porterà a vincere i premi che ci sono in palio che come ogni sera sono buoni sconto per il valore di 100 euro per il primo classificato e di 50 euro invece per il secondo classificato. Questa sera la serata in collaborazione con Porto Bianco che ha preparato la cena che state consumando in questo momento. Che dire di più? Dopo la rappresentazione faremo anche la votazione per il miglior attore o la miglior attrice ovviamente della serata che vincerà l'Oscar. In quel caso vincerà solo l'Oscar perché i premi in denaro sono in palio invece nella seconda e l'ultima parte della serata. Vi ricordo ancora che i buoni sono spendibili nei negozi all'interno del centro commerciale dal lunedì al venerdì fino alle 31-12 quindi avete tempo fino a fine anno per sfruttare i buoni. Io vi auguro ancora una buona cena, ci vediamo fra una mezz'oretta circa per l'inizio dello spettacolo. Grazie a tutti e a dopo!